Buon salve gente, buon salve! Come state? Spero tutto bene, io tutto bene. Dovevo girare un po' di video incasinati, diciamo così, che vi avevo promesso, però ho deciso di farli slittare avanti, perché sono gemelli e sono incostante, e soprattutto perché oggi è una giornata molto cosy, un po' autunnale, un po' grigetta, quindi ho deciso di dedicarmi a un contenuto che mi rilassa un pochino, sia da girare che da vedere, ovvero un book haul. È un contenuto che, sapete, non porto volentieri nei miei spazi, perché ne guardo anche relativamente pochi. Mi dà un po' fastidio il fatto che, in un certo senso, possano far sentire persone che non si possono permettergli di comprare libri escluse, e anche il fatto che, in qualche modo, faccia venire voglia di accumulare libri. Quindi, mi sento già di dirlo adesso, questi sono i libri che ho preso recentemente, dopo aver fatto un'attenta ricerca di cosa prendere in cartaceo e cosa in digitale, e non accumulate, prendete se vi serve. Detto questo, stavolta parliamo di cose nuove, regali nuovi, libri che mi sono giunti nell'ultimo periodo, devo unboxare due pacchi, uno da una casa editrice e uno me l'ha regalato mia madre, devo aprire cose anche in questo video. Ma, in realtà, avrei la possibilità di girare un altro book haul di Recupero Nivari, cioè libri che ho preso tra sconti, che mi sono arrivati a regalo, magari a ritardo da Natale, insomma, cose che ho stipato su una mensola e non ho più sistemato. Quindi, se vi va, vi faccio il video per farvi vedere queste cose, così poi le risistemo. E finalmente potrò girare un bookshelf tour. Per me ha la difficoltà di registrare come se dovessi, non so, progettare la seconda parte di Dune, di cui presto parleremo, o qui o sulla piattaforma Viola. Ma ciancio alle bande, e andiamo direttamente a vedere quali libri sono giunti in casa mia. Ma tutto questo dopo la sigla. Direi di partire con i libri che facevano parte del video delle uscite di gennaio. Ovvero, ve lo lascio qui in giro, quel video dove vi raccontavo un po' cosa usciva in italiano e in inglese nel mese di gennaio. E vi avevo detto che mi aveva convinto molto di più l'inglese, cioè le varie uscite inglesi. Infatti, per esempio, ho preso in digitale, e questo me lo ricordo bene, quindi posso includervelo, This Wretched Valley, che probabilmente avrò pronunciato male, e quindi vi lascio anche la copertina per pietà delle vostre orecchie. È un libro che penso recupererò anche in cartaceo, sono un po' indecisa. Mi è piaciuto, forse non mi è piaciuto incredibilmente, ma è un libro che voglio assolutamente acquistare in futuro. Quindi, siccome l'ho preso in ebook, vale, e facciamo questo book haul con anche gli ebook che mi ricordo di aver letto. Quindi probabilmente è solo questo. Non mi dilungo troppo dal momento che ve ne ho parlato nel video delle ultime letture, degli ultimi consigli per letture e acquisti, che comunque vi lascio qui in giro. Andando avanti, sempre nel video delle letture di gennaio, abbiamo Voyage of the Dumnid, che mi è arrivato incredibilmente nella box di Illumicrate. Mi è arrivato non intero, però è arrivato. Quindi, insomma, per una volta si sono sincronizzati con le letture che volevo fare. E se vi ricordate, la storia è un thriller fantasy. Gente con dei poteri che è chiusa in una nave, muoiono persone, si deve capire tra loro chi è il colpevole, tenendo presente che sono anche, tipo, tutti principi, tutti reali. E quindi, insomma, ci saranno dei bei casini. Tutto questo, questo viaggio, è commemorativo del, tipo, enorme periodo di pace di questo regno. Quindi, principi e principesse super importanti, tutti in questa nave, dove la gente sta morendo. Benissimo. L'unica cosa è che ne abbiamo parlato ampiamente sulla piattaforma Viola, quando abbiamo fatto l'unboxing di questa box, e il punto è che su Goodreads ci sembrava che raccontassero che il libro era anche, anche accettabile, ma Sistema Magico, War Building, erano proprio appena appena accennati, e ci fossero molti Deus Ex Machina. Questo ha fatto sì che io, in questo momento, voglio ritrattare quello che ho detto nel video delle letture di gennaio. Cioè, mi sembra interessante la sinossi. Poi, come l'autrice abbia deciso di andare avanti nella storia, nel Sistema Magico, nel War Building, purtroppo sfugge dal mio controllo. Altrimenti avrebbe quadrato tutto perfettamente. Ho anche chiesto di farmelo sostituire, quindi probabilmente avrò una doppia coppia. Però è talmente carina l'edizione che sono contenta, in fin dei conti, di tenerlo. E, tra l'altro, anche l'interno non ha robe strane. Normalmente ci sono artwork strani qua davanti. Mi sembra una bella edizione, quindi sono contenta, anche se è molto simile, a parte lo sbrilluccichio, a quella che abbiamo visto online. E è verde, invece, quella che vedete su Amazon credo sia azzurra. Dettaglio. Comunque, sono come un corvo e brilla, quindi lo teniamo. Sempre all'interno delle uscite di gennaio c'era Canzone Funebri per Ragazze Quasi Morte. Un libro che mi aveva affascinata tantissimo e che, diciamo, mi vede a metà opera. Quindi l'ho iniziato, ma poi ho dovuto fermarmi per leggere qualsiasi altra cosa, perché sono uscite un sacco di robe che necessitavano, tra cui Iron Flame, che ho preso anche questo in questi giorni. Sapete già che ho letto Iron Flame, direi. E questo mi è stato regalato da Teo, perché ci piaceva tantissimo la copertina. Cioè, è bellissima. Penso che sia una delle più riuscite. E molti di voi mi hanno detto, anch'io, in fiducia della copertina, ho deciso di acquistarlo. Però ho sentito molti che mi dicevano che non gli stava piacendo tanto questo testo. Io, appunto, sono a metà, quindi ancora non mi sbilancio. La storia, per ora, mi sembra interessante, ma non ho ancora deciso se effettivamente mi piace o meno. Una cosa che però mi sta un po' infastidendo è lo stile. Lo stile dell'autrice è strano. Non so descrivere perché, e quando l'avrò finito vi farò un po' una spiegazione migliore in un video di consigli e sconsigli di lettura, ma è strano. Cioè, percepisco fatica nell'andare avanti, e ci sono delle frasi che non trovo del tutto sensate. O meglio, capisco il senso generale, ma io non le avrei scritte così. Quindi devo capire anche quanto c'entra la traduzione. Per ora si legge ed è molto breve e poi è troppo bello, quindi io continuo a dire che io, tornando indietro, lo acquisterei e quindi sono contenta lo stesso. E poi è un regalo, quindi lo terrò, però non so ancora darvi un parere pieno. Ci vediamo nelle prossime settimane. Andiamo invece nelle uscite di febbraio. Anche qui vi lascio il video che ho fatto più recentemente dove vi dicevo che uscivano tanti libri interessanti anche in italiano. E quindi questo mese abbiamo fatto veramente il danno. Partendo da questo, cioè non so se vi rendete conto di quanto è bello visivamente, che è bellissimo. E All That's Left in the World è un testo che mi ha regalato Davide per San Valentino. Parla di una malattia che ha decimato il genere umano e c'è questo Andy che si trova alla fine del mondo, no? E la cosa che mi faceva ridere, come vi dicevo nel video di febbraio, è che la trama assomiglia molto anche alla mia, a quella del mio romanzo Zombie Friendly, ci si vede all'inferno e quindi ero molto curiosa di leggerlo. Siccome è una cosa molto coccola per me, non l'ho ancora iniziato perché sto aspettando un giorno in cui potrò rilassarmi completamente e iniziarlo e finirlo in un giorno, ma ho delle ottime aspettative. Quindi quando Davide mi ha detto te lo regalo io? Ho detto, ok, perché sono sicura questo di volerlo tenere, comunque vada, anche perché è talmente bello che non potrai darlo via. E poi è un regalo. Sempre uscite di febbraio, sempre regalato da Davide per San Valentino, abbiamo Five Survive di Holly Jackson. Un libro che sto vedendo divide le persone, perché da una parte ho amici che non hanno particolarmente amato come uccidono le brave ragazze, che invece a me è piaciuto, che l'hanno trovato veramente veramente interessante, hanno detto che l'ha colpiti tantissimo, gli è piaciuto un sacco il libro preferito della vita, eccetera. Mentre persone che hanno molto amato la trilogia precedente che mi dicono sostanzialmente di lasciar perdere perché non lo so il fatto che duri una notte, perché tutto il libro è ambientato in una notte ed è legato a questi studenti, se non sbaglio, che vanno in vacanza primaverile, si trovano all'interno di un camper che però buca e a un certo punto c'è un cecchino dalle colline che cerca di sparargli e quindi possono parlare con questo cecchino al walkie-talkie, ecco, dà l'idea appunto di un'esperienza adrenalinica, un thriller super power che si lega a una notte sola. Io vi avevo detto che per me è il Fast and Furious dei thriller, quindi spero che sia bello perché mi piace Ollie Jackson, ma purtroppo temo non sia molto My Cup of Tea, non l'ho ancora letto, ma l'ho preso, anche perché Ollie Jackson è una di quelle autrici che i suoi libri veramente mi durano una giornata al massimo, per cui sto cercando il momento giusto ed è effettivamente molto bella la copertina, molto molto più bella secondo me di quella della trilogia precedente, nonostante comunque attirasse l'occhio anche quella ed è praticamente quella che abbiamo visto anche Inghilterra America, se non sbaglio, quindi una gran bella edizione. Mi sono dimenticata Killjoy che davano insieme a Five Survive, vabbè, ve lo vado a prendere, ma solo stavolta, non mi farete alzare mai più. Danni! Opla! Come direbbero le persone ormai agè. Comunque Killjoy di Ollie Jackson è il prequel del bestseller come uccidono le brave ragazze e niente, è un caso della stessa protagonista della saga precedente. Mi interessa circa, diciamo che ho trovato interessante che la casa editrice lo regalasse insieme a Five Survive, perché alla fine è una sorta di novella, è un'edizione un po' diversa rispetto alla trilogia, quindi questo mi dà un po' fastidio in libreria, però dettagli è gratis, ce lo teniamo. Andiamo avanti con un libro che mi ha regalato madre e ha lasciato lo scontrino perché forse, non so, voleva che lo cambiasse, non ne ho idea. È Catfish Rolling che ha un'edizione veramente, veramente incredibile e soprattutto ha un'edizione veramente incredibile per un costo piuttosto basso che è 18 euro. Allora, questa edizione, io spero non si disfaccia a star notendoci sopra, per 18 euro veramente è fantastica, perché sotto i 20 euro con gli spray edges tutto doratino. La storia è una storia familiare, riguarda prima di tutto questo Catfish Rolling, ovvero questa carpa, se non sbaglio, pesce gatto, esatto, che si dibatte sotto le isole del Giappone. La protagonista è Sora che ha perso la madre a causa di un terremoto proprio dovuto al movimento di questo pesce. e ci sono dei luoghi legati appunto a una certa misticità, luoghi proibiti e selvaggi che sono molto pericolosi e che il padre sembra avere sviluppato una sorta di ossessione, quindi lei non vuole perdere anche il padre. Questo in breve. Lo posso aver preso per la trama? Sì, però... Che cos'altro ve lo faccio vedere e che cos'altro devo aggiungere? Niente. Cioè, sono una gazzaladra e vedendo un libro così carino non ho potuto resistere. Quindi ho sfruttato il bonus madre che magari voi non lo conoscete, c'è il bonus 18 che a me non è toccato, mannaggia chi l'ha avuto, mentre io ho il bonus madre, ovvero mia madre mi prende un libro al mese e quindi questo mese l'ho mandata su questa edizione che mi è piaciuta molto. Ultimo libro sempre legato a febbraio, all'uscita di febbraio sono tutti su questo treno sono sospetti. Questo perché il mio circolo di amici scrittori mi ha veramente scartavetrato i cojones con questo testo. Una storia sempre umoristica ma legata più a una famiglia. Qua ci sono addirittura degli scrittori all'interno di un treno e uno di loro è un assassino quindi i miei amici scrittori non so perché si sono tutti coalizzati e hanno deciso che questo era il libro da leggere questo mese e ne parlavano in continuazione. Io non avevo ancora letto quello precedente che ho da qualche parte ma alla fine e dai e dai e dai l'ho preso sperando di non pentirmene. D'altra parte lo voglio regalare a mia madre una volta finito quindi in linea di massima sono tranquilla che non andrà sprecato in questa casa. Avrei voluto aspettare sì ma esattamente come io vi distruggo le wishlist ogni volta che faccio un video di consigli di lettura i miei amici lo fanno con me. È un circolo vizioso. Vi chiedo scusa e adesso mi aspetto le scuse da parte anche dei miei amici mi sembra al minimo. Andiamo avanti con un giallo perché quando ho comprato quest'ultimo libro che ho detto vabbè lo prendo per mia madre però prima lo terrò io chissà per quanto lo terrò ho deciso di comprare proprio un libro per mia madre che legge principalmente gialli e sono andata su Bambini Lupo una storia che io francamente avevo vagamente sentito nominare mi aveva colpito per la copertina aggiunti effettivamente fa sempre delle copertine super fighe in questo caso specifico la storia io me lo aspettavo forse in un modo non so perché mi aspettavo un'ambientazione tipo Teddy che mi dava un po' quell'idea di tipo mostro e bambino quindi non so qualcuno che rapiva i bambini invece sembra leggermente diversa la storia il piccolo insediamento di Jacob Slater non compare su nessuna mappa e i suoi abitanti raramente scendono a valle qui si vive secondo i dettami del vento della pioggia delle stagioni a stretto contatto con gli animali e rifuggendo qualsiasi tipo di modernità quindi già partiamo bene con questa sorta di locus amenus un po' di village però mi sembra più una roba nordica quindi forse mi viene anche più paura è un luogo governato dalle leggi della natura dure e spietate ma coerenti almeno così è sempre sembrato a Jess che è nato lì a lui e agli altri bambini è stato insegnato che tutto ciò che è cattivo vive in città cioè della serie fuggite sciocchi da quello che c'è in città invece noi con nostra vita ritirata siamo i buoni ma la sua amica Rebecca non ci crede e sta cercando un modo per lasciare il villaggio una volta per tutte finché un giorno scompare e non è l'unica negli ultimi anni infatti sono state diverse le donne sparite senza lasciare traccia eppure solo la giovane giornalista Smilla che non so perché mi fa ridere il nome ma dettagli è convinta che in quelle zone si aggiri un serial killer forse lo stesso che dieci anni prima le ha portato via la sua migliore amica ben presto però si diffondono voci che fanno ricadere i sospetti sugli abitanti della isolata comunità montana qual è il mistero che si cela dietro a Jacob Slater che cosa lega queste sparizioni può una bugia una volta raccontata diventare la verità e poi vabbè c'è questo panorama strano e nordico quindi mi dà l'idea di tipo comunità lontana che è contro tutto e tutti e che in realtà al marcio si nasconde tra di loro quindi mi dà questa idea un po' alla The Village però molto più dura e cruda molto meno romanzata è esattamente il soggetto che può piacere a mia madre l'unica cosa sono i bambini speriamo che non ci siano robe strane con i bambini perché chiaramente mia madre ecco quella è l'unica cosa che le darebbe fastidio e diciamo che anch'io se potesse evitare sarebbe meglio violenza su bambini animali magari e su anziani sono quelle tre cose che se si potesse evitare è meglio però mi incuriosisce anche a me quindi glielo ruberò appena l'ha letto o se lo poggia da qualche parte se ne dimentica perché voglio sapere effettivamente come va a finire la storia magari tipo si crea un mostro si crea un serial killer chi lo sa leggerai molti più gialli di giunti solo che non mi cagano le mail e quindi devo prendere quelli che mi ispirano magari dalla copertina o quelli di cui vi parlo e fermarmi lì e sempre in quell'occasione vicino alla cassa c'era specchio che è uno dei volumi della collana di Dark Tales di Vallardi se non sbaglio esatto di Vallardi io ho notturno da qualche parte notturno sì là in alto ho provato a chiedere la collaborazione non sono stata cagata quindi mi ero anche dimenticata dell'esistenza di questi testi quando l'ho visto alla cassa ho deciso di continuare perché comunque sono un'antologia di racconti sono gotici molto spesso almeno nel notturno c'erano dei racconti anche un po' minori quindi non sono le solite cose che trovate in tutte le raccolte di racconti e quindi spero che questo ecco vada avanti in quella direzione comunque il costo è basso perché sono 12,90 euro per tipo 7-8 racconti per cui secondo me vale la pena esteticamente sono davvero belli prima vi ho detto che Teo mi ha regalato il libro di Bonpiani tra l'altro non vi ho ricordato chi è Teo ovvero una persona che fa parte della community e che siamo diventati amici col tempo e potete trovare come moderator all'interno delle mie live sia qui su YouTube che sulla piattaforma Viola e non vi ho detto neanche che mi ha regalato anche questi due testi insieme al testo di Bonpiani ovvero La strega di Shirley Jackson in questa versione super tascabile e super comoda che vado a mettermi sul comodino e un testo della mia amata Abeditore il Glicine Arampicante che è uscito anche abbastanza recentemente non mi ricordo qual è l'ultimo testo l'ho comprato non mi ricordo se ho comprato l'ultimo libro sugli incubi o se devo comprarlo vedete questo mi ricorda che in realtà ci sono libri che devo comprare cioè quelli di Abeditore se voi mi chiedete se un testo di Abeditore vale la pena la mia risposta sarà sempre sì perché se non so cosa comprare nel dubbio compro Abeditore che è la mia casa editrice preferita se c'è spazio vi lascio in giro un video di 7 milioni di anni fa dove vi parlavo bene di loro quando ero ancora biondo platino quindi c'è proprio ere geologiche parlando di invii vi voglio far vedere due libri legati alle sirene che sapete che io non amo particolarmente ma come non amare questa edizione di La Sirenetta che è una delle mie fiabe preferite nonostante a me le sirene non piacciono però diciamo che questa volta facciamo uno strappo e non solo perché la storia insieme a Peter Pan e poche altre sono le uniche storie che nella mia infanzia mi piacevano davvero a livello di fiabe ma anche perché i disegni e l'impaginazione di questa edizione che mi ha mandato Rebelle sono veramente incredibili sono bellissime ma è proprio l'impaginazione del testo che mi fa impazzire i capitoli che iniziano così le frasi che sono evidenziate più grandi oppure le illustrazioni a tutta pagina veramente un'edizione bellissima che è stata tradotta da Tiffany Miss Fiction Book l'ho amata e davvero amo questa loro edizione di delle favole di Lopoutin che ha dato una veste molto non solo magica e fantastica ma inquietante anche in un certo senso piaciuto tantissimo posso consigliare sia magari per un pubblico più giovane ma anche per noi adulti che a volte vogliamo rileggere le storie di infanzia e a proposito di sirene e a proposito di bambini o letture per bambini mi è arrivato da Gribaudo la sirena dei ghiacci che sicuramente not my cup of tea o not my cup of water and ice a questo punto è una storia appunto che parla di tematiche legate all'ecologia in una storia che è raccontata da questa sirena che anche qua ha un'impaginazione bellissima questo testo e ha delle bellissime immagini e la sirena che vedete qui in copertina è la protagonista e si chiama Chiona e avrà a che fare con le poche sirene rimaste dal momento che appunto si stanno scongelando i ghiacci se fossi piccola mi piacerebbe molto e mia nipote sono sicura che la amera quindi andrà direttamente a lei e sempre Gribaudo mi ha mandato anche il principe rapito di cielo nero questa volta della sua collana chimera quindi per un po' più grandi che ha un fantasticione di capitoli che si pone a 120 126 io leggo qua e anche qui troviamo un'impaginazione super carina con tipo le parti divise da questi numeri vedete fonte diversi quindi molto appagante dal punto di vista estetico ma la storia è la cosa che colpisce di più perché è molto particolare molto tempo fa il principe Alejandro di cielo nero ancora bambino viene rapito mentre giocava sulla riva del mare e fu cresciuto dai pirati e già qua secondo me ci ha guadagnato ma dettagli dieci anni dopo il principe riuscì a fuggire e a trovare la strada di casa il re e la regina gli organizzarono la più grande festa nella storia del regno per dargli il benvenuto ed è proprio in quell'occasione che Esther lo ha incontrato o perlomeno è ciò che Esther ha raccontato in un tema ma la sua insegnante non le ha creduto a Esther succede spesso che la gente non le dia credito frequenta un collegio per ragazze ed è pronta a affrontare un nuovo anno scolastico quando si accorge di alcuni cambiamenti strani e inquietanti per cominciare pare che la professoressa nuova sia un orco non preoccuparti Esther anche per me era così la società sociale medica e le superiori quindi non è così raro ed Esther sente che è lì per portare guai matematica o greco e lati secondo me è quello vabbè dettagli ma le sue compagne non le danno retta ovviamente ovviamente perché l'insegnante è un orco sì vabbè non essere così cattivo poi c'è la ragazza nuova che è una sussurratrice che per chi non lo sapesse è chi sostanzialmente suggerisce durante le interrogazioni questo nella vita reale in questo libro invece a quanto pare ci sono delle situazioni magiche coinvolte e ci sono voci di un incantatore in incognito tra gli studenti questo però è confortante perché se c'è un incantatore gli studenti sono al sicuro dai malvagi maghi oscuri apparsi improvvisamente nella valle quando l'incantatore si ammala Esther si ritrova a suo malgrado a dover proteggere la scuola dalle forze invadenti delle tenebre ma la situazione precipita quando scopre che i nemici non sono solo i maghi oscuri c'è anche un demone antico e terribile che vuole proteggere tutti i regni e gli imperi potrebbe essere collegato al ritorno del principe rapito di cielo nero e come può Esther salvare il suo mondo non è né un'incantatrice né una sussurratrice anzi è una ragazza assolutamente ordinaria o almeno è ciò che le hanno sempre fatto credere allora questa sinossi ve l'ho voluta leggere perché è stranissima cioè continuano a aggiungersi elementi e secondo me se fossi in età target per questo testo mi avrebbe colpito tantissimo il fatto che c'è sempre qualcosa di nuovo cioè aggiunge sempre qualcosa in più prima c'è questo ragazzo poi si passa su Esther poi si passa sulla scuola però torna al principe cioè è molto particolare e sembra anche un po' umoristico messo anche con un'impaginazione interessante con il fonte diverso tipo di alcune lettere non lo so penso che se fossi stata ragazzina mi avrebbe davvero affascinata mi dispiace tantissimo di essere cresciuta un po' perché essere adulti fa schifo e un po' perché certe letture le avrei apprezzate molto di più se fossi stata piccola nel frattempo questo mese è arrivato anche l'abbonamento di Evernight che sarebbe sostanzialmente il Lumicrate in versione horror e non so perché questo mese ha deciso di darci una sorta di dark fantasy perché non lo vedo tantissimo horror parlo di The Invocation che ha questa copertina figa per essere un un artwork ma come copertina non so non mi convince del tutto poi qua c'è gli spray edges con lo scheletrino però comunque si mi dà l'idea tipo trio che indaga su qualcosa di paranormale e orrorifico tra l'altro l'interno con queste questi disegni è bellissimo la storia effettivamente è quella di un'indagine paranormale di tre donne che cercano di risolvere gli omicidi di altre cinque donne se non sbaglio che sono state uccise sicuramente da un essere sovrannaturale un killer sovrannaturale questo perché non solo le ha uccise malissimo ma non ha lasciato dna e non ha lasciato tracce la trama va avanti con la descrizione di queste tre protagoniste che in fin dei conti arrivano a fare questo team up perché due di loro stanno cercando un maledetto che è tipo una figura soprannaturale di qualcuno che può utilizzare la magia trovano un biglietto che reca il nome della terza donna detto così in realtà trovo che questa sinossi che forse non vi ho raccontato al meglissimo ecco però di per sé non sia così interessante effettivamente preferisco questa cover rispetto a quella che ho trovato su amazon questa storia non ve l'ho elencata tra i libri che uscivano tra gennaio e febbraio perché non so mi aveva colpito un po' con la sinossi e la copertina proprio non mi piaceva se avesse avuto questa immagine invece ve l'avrai comunque fatto presente che esisteva io lo leggerò mi sembra tra l'altro anche scritto in maniera molto semplice però sarà una lettura per più avanti perché adesso sto annegando nelle nuove letture e nelle letture che devo recuperare parlando di letture da recuperare mi sono arrivati due consigli da persone che stimo molto e che quindi sono andata a acquistare mentre ero in libreria a prendere altro e ho deciso di far rientrare nel mio carrello anche le vergini suicide che è una storia di ragazze che si tolgono la vita io non l'avevo mai sentito nominare e me ne hanno parlato strabene oggetto dell'ossessione sono le cinque sorelle Libson per sempre fissate nella loro bellezza adolescenziale che nel volgere di un anno si sono tutte tolte la vita a raccontarlo è una voce collettiva formata da un gruppo di ragazzi che a vent'anni di distanza cercano ancora di penetrarne il mistero in frammenti di ricordi indizi sopravvissuti al tempo diari vestiti elementi di un feticismo mai placato erano cresciuti insieme rapiti e spaventati dai rituali di quelle giovani donne che rappresentavano un unico oggetto di desiderio l'essenza di una misteriosa femminilità ora da adulti se ne sentono i custodi nella consapevolezza che la loro vita è irribediamilmente divisa tra un prima e un dopo ed è qui che il racconto di Eugenides assume i contorni del mito fantasia di innocenza tanto più desiderabile nell'attimo in cui non può essere resuscitata io non ci ho capito fondamentalmente niente se posso essere onesta se non appunto che è una storia molto particolare mi hanno consigliato che sarebbe stata una storia per me e quindi visto che ho trovato in sconto questa edizione ho detto va bene la prendo 13,50 euro e mi butto in questo trip da acidi perché penso che sarà una lettura di questo genere a 9,90 euro quindi poco meno della lettura da acidi ho scelto un'altra lettura da acidi che mi è stata consigliata per quanto riguarda il villa in caffè Credence dovrebbe essere la storia in cui la protagonista deve trasferirsi con dei familiari non ho letto la trama perché sto aspettando di fare il villa in caffè però se non ricordo male comunque si trova con dei cugini o degli zii che dovrebbe farsi tipo cioè si innamora di loro non ho capito bene su internet ho trovato racconti di questa cosa cioè a un certo punto lei si innamora dei cugini è un libro un po' particolare però dicono tutti che i personaggi perfettamente delineati una scrittura che rapisce uno spicy che esce fuori dai sottili schemi me lo sono portato a casa perché se tutti ne parlano così male vuol dire che un motivo per leggerlo c'è se comparirà un video su questo testo vuol dire che le persone che me l'hanno consigliato me l'hanno consigliato per il bene del canale ma non per il bene dei miei neuroni prima di arrivare ai due pacchetti che ho qui poc'anzi davanzi accanzi che cosa sto dicendo non lo so volevo farvi vedere estranei tutti questi libri in realtà questi ultimi ne abbiamo parlato nella piattaforma viola e quindi vi avevo già mezzo accennato che l'ho visto nelle storie di diverse persone quindi mi sono soffermata a leggere la trama ed è una sorta di ghost story fondamentalmente un protagonista che ha perso i genitori ma che vede delle figure che assomigliano a questi genitori va a casa loro e diciamo si alimenta una sorta di strana ossessione ma queste persone che sono uguali ai suoi genitori sono i suoi genitori o non lo sono cosa gli sta facendo questa vicinanza con questi esseri non ho visto il film mi hanno detto che c'è un film tratto da questo libro non mi interessa la copertina era bellissima è abbastanza breve ed è una ghost story dicono che è una ghost story che si evolve in un sottile ritratto psicologico direi che con questa frase mi sia conquistata quindi lo leggerò metterò sul comodino e un giorno lo tirerò fuori e lo leggerò così per passare il tempo secondo me mi piacerà andiamo avanti con i pacchetti pacchetti pacchettini ecco questo è un pacchettino che è in comunità tra me e madre ecco di una lettura che penso compaia nel video delle uscite di febbraio esatto book the book of accident allora dovete sapere che quando vi ho fatto la presentazione un po' di questo libro tra le uscite la sinossi mi faceva un po' ritere cioè l'ho letta e ho detto non lo so bene ma non benissimo perché sembra un horror interessante ha una copertina molto carina però la sinossi è un po' sciocca secondo me quindi lo leggerei ma così senza impegno poi tutti i miei amici mi hanno detto che invece in inglese l'hanno letto ed era super interessante come horror e io ero lì tipo sì cioè sembra un horror ma sembra una cosa di poco impegno no 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 anzi l'autore è super interessante dovresti leggerlo e quindi ho detto va bene ne ho parlato con madre e ho detto ma il che vada è un thriller molto scuro se no magari è un bell'horror o a me o a lei piacerà quindi o io mi annoio e mia madre è contenta perché è un thriller molto dark oppure io sono felice e mia madre è traumatizzata perché è un horror in ogni caso insomma qualcuno sarà contento spero di essere io e tra l'altro vedo tipo 77 capitoli va bene accetto la sfida e come vi dicevo prima devo cambiare compaglia di amici e questo libro mi farà capire se sto frequentando le persone giuste o meno o se sono dalla parte di mia madre e del thriller e parlando di persone che mi vogliono bene e che vogliono che legga horror questo pacchetto viene da Acheron un secondo che lo apro questo dovrebbe essere un tagliacarte cosa taglia la mia voglia di vivere la mia faccia se non sto attenta eccolo qua eccolo qua madonna nera l'ultimo horror che è uscito in casa Acheron tra l'altro com'è bello il retro cioè perché noi guardiamo sempre la copertina giustamente ed è una copertina che funziona molto bene tra l'altro Germano Hel Greco è uno degli autori che ho considerato tra quelli che hanno scritto un racconto più interessante in notte horror 80 se non sbaglio quindi sono molto contenta di poter leggere un suo libro la trama è questa la Puglia divora dicevamo prima è il mantra dei giovani di Aleppia che non sono riusciti ad andarsene anime oppresse deformate dal clima di pacata crudeltà che governa da sempre le loro vite e che ribolle nel ventre marcio di una cittadina gravida di segreti ok io sono già presa segreti in una cittadina cioè del marcio io ci sono il padre di Pietro infatti è morto il giorno della sua nascita un delitto insolito opaco come certi ricordi della sua infanzia che bella metafora Pietro vive circondato dagli inquietanti dipinti lasciati in eredita dal genitore mentre assiste la madre malata Sandro suo amico di lunghissima data ha scelto di votarsi alla malavita Kiki cerca in vano una carriera d'artista online mentre Giada sfuggita alle violenze del padre è costretta a prostituire scusate ma è sempre YouTube per ripagare un grosso debito qualcosa di peggiore però si inserisce nella già difficile quotidianità dei ragazzi sussurra dai campi prosciugati dal sole e infestati dalle tanti morti inspiegabili che si sono susseguite nel corso dei decenni qualcosa che promette ricompense che domanda un voto di sangue bene sono contenta una di quelle cose che volendo leggerai prima di dormire so che voi avete un'idea diversa delle storie della buonanotte questo mi darebbe davvero un buon rilassamento sarebbe molto catartico quindi sono molto interessata mi sembra un horror tra l'altro che vanta una buona territorialità come la maggior parte delle storie di Akheron e che spero appunto di ritrovare poi anche nella storia trovo delle vicende anche di persone piuttosto realistiche non so personaggi magari molto campatinari mi sembra di trovare della concretezza in questa storia ed è molto breve quindi non vedo l'ora di parlarvene sarà una lettura che mi metto sul comodino per quella giornata in cui ho bisogno di leggere un horror prima di dormire e non lo so trovo che mi ispiri particolarmente poi ogni tanto individuo queste pagine tipo di giornale con un fonte diverso con un'impaginazione un po' particolare di questo genere quindi ve le segnalo perché non so poi questi denti ovunque bene bello veramente bello una bella edizione mi incuriorisce molto grazie mille Acheron e niente gente questo era tutto quello che dovevo farvi vedere per ora cioè le cose nuove perché ho delle cose vecchie sì ho tante cose vecchie da mostrarvi sia un'intera libreria sia le cose da sistemare quindi vi è piaciuto questo video se vi è piaciuto andate qui sotto non in descrizione perché non ci potete andare ma nei commenti e fatemi sapere se avete letto questi libri se avete comprato qualcosa dei vari video che vi ho detto quali sono stati magari i libri che poi sono arrivati effettivamente a casa vostra quali vorreste acquistare vi ho convinto ad altro con questo video fatemelo sapere e lasciate like se volete il nuovo unboxing anzi il nuovo book haul fatelo sapere quindi come vi ho detto lasciate like commentate facendomi sapere la vostra e condividete il video in modo che tutta questa book bellezza arrivi un po' ovunque e vi ricordo che in descrizione c'è un altro bellissimo libro ovvero zombie friendly ci si vede all'inferno trovate il link insieme anche a tutti i miei social nel dubbio Giulia Bifrost su tutto in particolar modo su Instagram che è un social infame ma vi permette di vedere attraverso le storie dove sto facendo cosa e niente gente mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina io vado a montare questo popò di video infinito e noi ci vediamo nei prossimi giorni e sulla piattaforma Viola mi raccomando tutti i sabati a presto ciao gente a presto Grazie a tutti.